Ci siamo portati dritti dritti all'appuntamento con Gobellini a sto spazio insane, ben ritrovato, che gioia ritrovare Gobellini Bello, ciao Bonizio Senti, cosa hai riservato per noi oggi? Allora, io vi ho mandato un singolo che ha fatto il DJ Resident del Pacià di Lisa che si chiama JP Candela, che tra l'altro è quello che fece il bootleg che hanno suonato un po' tutti tra Mia Five Seconds, Love Is Gone e The Vigetta ha fatto questo singolo e uscirà sulla Mutilicious l'etichetta di Pene Rossini e la versione che vi ho mandato è proprio un remix che hanno fatto Stefano Pene e Marcel di questo pezzo che si chiama Sanniva Ascoltiamo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.